Oggi è il grande giorno, mi sento fortunato e quindi box opening! Ciao a tutti i brawler e bentornati su Brawl Stars! È stato appena rilasciato rosa nel negozio per sole 19. Gemme, incredibile, super offerta, ma noi ovviamente non andremo a sciopparlo, ma bensì andremo a cercarlo nei box. Ho farmato parecchie casse, 25 per l'esattezza normali, poi abbiamo la cassa enorme e addirittura la mega cassa, perché ieri sono arrivato a 4.000 trofei. Tuttavia, ho droppato un paio di trofei, ma la connessione a volte fa brutti scherzi. Ragazzi, Leon, portato a 260 coppe, l'ultima volta era circa 100, quindi sono abbastanza soddisfatto. Siamo quasi a 4.000, andiamo subito a cercare il rosa, il nuovo brawler. Sono veramente gasatissimo, l'abbiamo già provato nel precedente episodio e oggi ci andiamo a fare anche qualche partita se lo troviamo. Quindi, un like, un commento, iscrivetevi al canale per altri video di Brawl Stars e iniziamo dalla mega cassa, allora. Ma ragazzi, incrociamo le dita, eh? Tanto è un brawler abbastanza facile da trovare, quindi vediamo. Punti energia per Piper, 10. Mortis, 10. Leon, 15. Perfetto perché mi servivano. Punti energia per Carl, che ovviamente sale perché non abbiamo niente per lui. Bull, 75. Gemme per 8. E forse, ragazzi, forse tramite la mega cassa, eh, eh, incredibile, ci manca soltanto una gemma per ottenerlo. È incredibile questa cosa, ma magari la troviamo qua. Quindi, cassa enorme, ragazzi, abbiamo monete. Leon, tantissimo che non facevo un box opening così grande. Pocio e, infine, dei biglietti degli eventi. Un bel po' di roba, ragazzi. Allora, io direi di andare a vedere, tra l'altro, in brawler se posso migliorarlo. E io, ragazzi, andrei a farlo perché lo sto giocando veramente tanto. Leon, voglio portarlo a un buon livello, quindi ci sta. E adesso, ragazzi, eh, a noi due. Box piccoli, ragazzi, dai, proprio questi li apro a manetta. Vai, proprio spediti, ragazzi. Non dovrebbe essere troppo difficile trovarlo. Ma se è veramente in 25 casse non lo troviamo. Dai, dai. Me ne sono messe da parte tantissime, ragazzi, in questo periodo, proprio per fare il box opening, quindi. Punti energia. Beryl, più 5. Andiamo avanti, ragazzi, dai. Oggetti rimasti due. Pocio. Dynamike, sì, che sale Dynamike. Dynamike, ragazzi, vorrei farlo salire. Posso migliorarlo? Assolutamente sì, ragazzi. Volevo migliorare Dynamike da un botto di tempo. E portarlo a livello 7, quindi ce l'ho fatta e andiamo avanti. Monete, Bombardino e Carl. Carl, ragazzi, non lo sto giocando molto. Non è che mi piace particolarmente. Dai, dai, che lo troviamo. Dai, che troviamo Rosa. Al massimo, ragazzi, che siamo fortunati, troviamo una gemma. Ma proprio al massimo, eh. Così che poi ce lo compriamo. Dubbio che in queste casse si possa trovare una gemma, però. Mortis e niente. Dai, Rosa! Non ti voglio scioppare, Rosa. Dai, ti prego. Non voglio spendere 2 euro per prendere quella misera gemma che mi manca. Ti prego. 12 cassi, ragazzi, dai. Frank. Niente. Vado spedito, ragazzi, se no non finiamo più. Monete. Frank. Mortis. Mazzà. Quanti biglietti di elementi ho? 333. 50 monete. Buonissimo, ragazzi. Era doppio oggettoni. Una cassa della madonna quella, veramente. Una cassa enorme. Ok. Andiamo avanti. Monete. Bombardino. Eh, vabbè, ma mi va di sfiga, eh. L'altra volta Carl l'ho trovato subito. 3 gemme. Ok, ragazzi. 3 gemme le abbiamo beccate. Ok. Se non lo troviamo qui, al massimo ce lo compriamo. Io già ce l'avevo le gemme. Farmate, tra l'altro, con i box. Quindi, voglio dire. Ne abbiamo le ultime 3, ragazzi. Dynamite. Carl. Ultima. Vai. Ultimissima. Spike. E raddoppio oggettoni ancora. Vai. Niente, ragazzi. Ok, ok. Va bene. Allora ce lo prendiamo. Ce lo prendiamo tranquillamente. L'ultimo, ragazzi. Rosa. Acquistiamolo. Perché abbiamo trovato le gemme che ci servivano. Bruner raro. 4 su 4. Tra l'altro è raro. Non è nemmeno super raro. Cioè, voglio dire. Eh. Ci mi ha messo un po'. Però, veramente, veramente bello. Rosa. Che andiamo subito a provare. Tra l'altro, oggi c'era l'offerta per ottenere un qualsiasi Bruner raro. Al costo di 30 gemme, mi sembra. Abbiamo un po' di cose da comprare. Punti energia 34. 17 per lui. No. Non c'è niente che mi interessa. Tra l'altro c'è questa offerta, ragazzi. Che è veramente buonissima. Questa qua, perché ho raggiunto il livello 50. Questa è veramente ottima. Questa è stupenda come offerta. Però, no. Bruner, andiamo a mettere il rosa, ragazzi. Andiamo subito a provarlo. Ricordo che, come attacchi, ha... Attacco danni per pugno, 480. Quindi, attacca più o meno da vicino. Ricordo che c'ha lo scudo, che è OP e 5000 di salute. Andiamo subito di sopravvivenza. Prima partita con rosa. Via. E oggi proviamo a raggiungere i 4000 trofei. Dai, ragazzi. Che oggi sono gasatissimo. Ovviamente giocheranno tutti con rosa. Io... Io già lo so questo, vero? Ricordo che sto giocando con mouse e tastiera. Perché mi trovo meglio a registrare, ragazzi, i video. Mentre da casa a volte gioco anche con... Ah, tutti rosa! Eeeh, vabbè, dai. Menatevi, menatevi. Vai, vai, vai. Menatevi, menatevi. Perfetto, ragazzi. Ho fatto subito una bella chiletta. Ho fatto subito una bella chiletta di rosa. Il problema è che non ho preso power up. Non ho preso power up e ci sono tutti rosa in giro. Questo me lo prendo io. Vai, vai. Questo me lo prendo io. Almeno un power up, ragazzi, l'ho preso. Qua c'è un bo. Oh, madonna, ragazzi. È fortissima. Leva tantissimo. Vediamo se vado contro bo con lo scudo. Ci provo? Eh, ma non lo raggiungo, ragazzi. Non lo raggiungo. Andiamo di qua. Ricordo che io qua... C'ho lo scudo, quindi al massimo. Cerchiamo di arrivare almeno secondi. Vuoi timmare? Dai, sì, sì. Via qua, via qua. Via qua che timmiamo. Ti spacco la faccia. E dai, prendiamoci sto power up, va? Ragazzi, già due chiletti di rosa, eh? Chi è il rosa più potente? Chi è? Chi è? Ah! Ah, leva di più, lui leva di più. Peccato, l'ho sprecato malissimo. Però l'ho recuperato, ragazzi. L'ho recuperato, infatti. Già posso rimetterlo. Adesso, se quel Matteo si va a scontrare con l'altro rosa, io ne approfitto. Eccolo, vai, vai, vai. Vai, eh, ragazzi, penso che a questo arrivo secondo, per forza di cose. Eh, vabbè, sì, dai. Eh, vabbè. C'era dieci power up, ragazzi, però. Prima partita, già secondo posto. Va benissimo, lo sapete che la prima è dei nabbi, quindi è la prima partita del giorno, quindi ci sta. Per la prima va sempre bene. La seconda, proviamo a vincere, ragazzi, ma ci sono rosa, solo rosa ovunque. Ci riproviamo, ragazzi, ci riproviamo. Tranquilli. Vai, seconda partita di oggi. Voglio arrivare a questi 4.000 trofei. Ho droppato anch'io Leon come Grax. Ah, ragazzi, è forte, no, è veramente forte. Mi piace tantissimo questo brawler. Allora, ci sono casse? Madonna, questa già ne ha presi tre. Allora, col fatto che sono tutti rosa, è veramente difficile assicurarsi la prima posizione. Vi dico la verità. Eh, vabbè, questo ne ha già quattro. Vabbè, ragazzi, gli ho dato giusto qualche colpetto per assicurarmi la ulti tra poco. Gli ho dato giusto un po' fastidio. Madonna, 5 power up. Di già. Eh, quello sarà pericoloso. Sarà veramente pericoloso. Tusca. Mi devo ricordare di questo Tusca. Non ci sono più casse in giro. Crasava. Eh, raga, anche qua mi sa che arrivo secondo, eh. Allora, io mi nascondo qua. Aspetto un attimo che entrino gli altri. Eh, ma che faccio? Li vuoi ancora secondo? Ecco, infatti... Eh, vabbè, non l'ho fatto in tempo. Va bene, anche questa partita, ragazzi, vabbè. Sono arrivato praticamente terzo. Peccato, 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 peccato. Ma voglio fare una partita che arrivo primo. Anche perché è stata anche abbastanza noiosa questa. Probabilmente ve l'avrò tagliata. Persa posizione ci può stare. Voglio dire, finché siamo a queste poche coppe. Ci sta la grande. Ecco, io non vorrei farmi scappare quelle tre. Ragazzi, se riesco a prendere quelle tre... Ah, anche qua ce ne sono tre. Allora, forse questa partita la possiamo provare a far qualcosa di interessante, ragazzi. No, si ricarica velocissimo. Vai, una. Dai, dai, dai. Mena, 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 mena. Donna, leva tanto. Leva tantissimo. Due. Qua, ragazzi, siamo già a tre power up. Quindi questa partita già potrebbe andare diversamente dalle altre. Siamo già a tre power up. E là ci sono tre casse. Che non so se sono già state aperte. Vediamo. Vediamo se ci sono quelle tre case. Ma sono già state aperte. Niente. Già sono state aperte. Va bene. Comunque siamo a tre power up. Giocano tutti con rosa, eh. Aiaiaiaiaiaia Ma che corre il più veloce Uh ragazzi mi sono salvato tantissimo Mi sono salvato tipo troppo Ora però mi sa che sono morto Madonna uno ne ha 6 Ok 4 anche per me Divento grande ragazzi Divento grande vai 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 che lo ammazzo Eh vabbè niente Questa è una partita tra titani veramente Eh vabbè ancora terzo ragazzi Riuscirò a fare una prima posizione con rosa Dai su Allora non devo essere avventato Devo giocarmela più Cioè devo sempre prendere tante casse Perché è importantissimo Però Devo giocarmi bene la ulti ragazzi La ulti deve essere giocata bene Perché se no Se no non si va né avanti né indietro qua Allora Ok Ok l'ho rubata proprio di prepotenza Questo ce lo facciamo fuori Ce le prendiamo queste Ce le prendiamo Ce le prendiamo Perfetto ragazzi Ora questo gira di qua Questo ne ha 3 Ne ha 3 ma sta scappando Piano Ora quello là si andrà a scontrare con quello Quella ne ha una Quello ragazzi è fregato Io adesso aspetto che esca Adesso ci andrà quello Ok Ok vai 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 Dai fatto fuori Fatto fuori Bella Federic Vai vai che ci abbiamo anche la ulti Raga Ok C'è quello che ne ha 3 Potremmo tranquillamente Trascinarlo al centro Facendo così 7 Ne abbiamo 7 ragazzi Niente cavolate Cavolo l'ho quasi fatto fuori E adesso voglio vedere Ok 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 Sì Ragazzi Primo posto Meritatissimo In quanto avrò fatto circa 4 kill Tipo una roba simile Sono contento comunque Primo posto Con Rosa Alla quarta partita Che faccio con lei Non male Io direi di farne Un'altra ancora Ci sono Solo Ed esclusivamente Rosa Non esistono altri brawler In questa mappa ragazzi Vi giuro Ah no ecco C'è un Frank Vabbè Mai andare contro Frank Ma mai Allora c'è una cassa Ce la faccio? Ok Mi devo caricare la ulti Messo male a questo Bravo Federic Bella mossa Due kill Fatte tutte e due io Più o meno Più o meno L'ho fatte tutte e due io Carl C'è Carlito Qualcuno morirà Qui qualcuno morirà Sì sì Qualcuno morirà Cioè ragazzi Ho la ulti E un altro colpo di ulti Perfetto Nonostante ce l'avevo attiva Raga No No Assolutamente No Eh ho colpito per primo Però eh Forse qualcosa Si può fare Perché avevo colpito Per primo Solo per quello ragazzi Perché se no C'è ancora Carl Oddio c'è Carl E anche un Frank Con tre Mi devo allontanare Che c'è la ulti Raga E infatti Ehi Dai su Dai su Stai zitto Per favore Stai lì Per favore E mo Carl Che famo Giochiamo a briscola Carl Dai su Dai giochiamo a briscola Carl Dai su Carl Madonna mia Maronna Bella ragazzi Bellissima Tanta roba Realmente Tanta tanta roba Quanto abbiamo fermato Va a 38 Coppettine Ragazzi Abbiamo a 4.026 Trofei Abbiamo Qualche Cassa da aprire Quindi La apriamo subito Perché magari ci esce Qualcosa per rosa Oggi ragazzi Un chest opening Incredibile A 30 casse Più Tre gemme Per rosa Non abbiamo trovato Nulla Tanta Tanta roba Potenziamenti Niente Possiamo potenziare Qualche brawler Magari che Non so Boh potrei potenziarlo Perché volevo portarlo Sui effetti Quindi magari Gli do qualcosa Così facciamo un po' Tutto in questo episodio Altri da potenziare C'è colt Ma ne servono troppi Anche per spike Ne servono troppi Potenziamo lui Così che non lo lasciamo Al 2 E niente ragazzi Dai Rosa è un brawler Che mi piace particolarmente Lo userò tanto Soprattutto in questi giorni Voglio portarlo a un buon livello Da Federic È veramente tutto Vi lascio un like Un commento In iscrivervi al canale Per altri video di Brawl Stars E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao